Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Aileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vorrei farvi ascoltare un estratto tratto dal romanzo Leading Levi di Kylie Gilmore, tradotto da Mirella Banfi. Si tratta dell'ottavo volume autoconclusivo della serie Contemporary Romance Storie Scatenate. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e se vi va per i vostri acquisti di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Kylie Gilmore scrive romanzi rosa umoristici che vi faranno ridere, piangere e allungare. le mani per prendere un bel bicchiere d'acqua. Kylie vive a New York con la sua famiglia, due gatti e un cane picchiatello. Quando non sta scrivendo, tenendo a bada i figli o prendendo debitamente appunti alle conferenze per gli scrittori, potete trovarla a flettere i muscoli per arrivare fino all'armadietto in alto, dove c'è la sua scorta segreta di cioccolato. 1. Galina Non sono un tipo romantico. Sono una biostatistica. Calcolo le probabilità di successo prima di portare avanti un progetto. Oggi il mio matrimonio, teoricamente una fuga d'amore, in effetti è stato organizzato fino all'ultimo particolare. Non farei mai una cosa avventata come sposarmi d'impulso. Orrore. Stupenda, dice Paige mentre mi aggancia una piccola collana di perle. È la proprietaria dell'Innet Lovers Lane, la locanda dove mi sposerò con una cerimonia all'aperto, in un sabato di giugno. Grazie. La mia voce sembra venire da una grande distanza. Sto avendo una strana esperienza extracorporea. Mi guardo, mentre mi preparo in una stanza per gli ospiti al piano di sopra della locanda. Non so perché, ma niente sembra reale. La mia mente girovaga in uno stato nebuloso e onirico, mentre cerco di tornare al mio solito io razionale. È tutto perfetto. Il tempo, il mio vestito, la mia futura vita matrimoniale. Non c'è motivo di preoccuparsi. Due mesi fa Kevin e io abbiamo comprato una casa insieme a Summerdale, stato di New York. Il matrimonio era il logico passo seguente. Siamo insieme da due anni e due mesi e abbiamo passato due di quegli anni vivendo insieme. All'inizio in un appartamento e poi in una villetta. Sognavo da tutta la vita di vivere in una villetta. Tutto esattamente come voglio che sia. Riepilogo ancora una volta mentalmente i fatti. Kevin e io siamo entrambi professionisti molto occupati. Una cerimonia come questa fa risparmiare tempo e denaro. Ci sono buone probabilità di una vita di successo insieme. Kevin è un ricercatore per cui provo molto rispetto. Mi chiede poco e lo stesso faccio io. Come ho detto siamo perfettamente compatibili. L'ha confermato perfino l'app di appuntamenti sulla quale ci siamo conosciuti. Allargo gli strati di tulle in fondo all'abito da sposa che ho sempre sognato. È lungo, con lo scollo a V, sottili spalline, girovita con le perline e una sopravveste di pizzo floreale. Non riesco a credere che fosse anche così conveniente. Era destino, proprio come il mio matrimonio. Mi rallegra un po'. Forse non sono proprio a mio agio, perché c'è la rivista Leisure Travel che copre l'evento. Non sono mai stata il tipo da volere i riflettori puntati su di me. Preferisco restare sullo sfondo, pensando e ripensando i problemi, calcolando le probabilità di soluzioni di successo. È ciò che faccio al lavoro. Analizzo i dati relativi ai nuovi medicinali in una società farmaceutica. Comunque, questa locanda si vanta dei suoi matrimoni d'impulso. La tempistica era perfetta e, se devo essere sincera, c'erano tensioni nella mia famiglia riguardo a Kevin, motivo per cui non ho detto a nessuno di loro del matrimonio, tranne i miei nonni che vivono a Las Vegas, dove passeremo la luna di miele. So che non sembra entusiasmante, ma nella mia famiglia tradizionalista è un peccato mortale vivere insieme prima del matrimonio. I miei genitori e miei nonni finora hanno più che altro finto che Kevin non esistesse. Non l'hanno mai incontrato e a lui non importava essere escluso dagli eventi di famiglia. Ricevo un cartoncino d'aguri per Natale dei miei genitori, indirizzato solo a me. Ma cambierà tutto dopo il nostro matrimonio, giusto? Dovranno riconoscere il posto che ha nella mia vita. L'ha conosciuto solo mia sorella Izzy e non le è piaciuto, anche se non ha mai saputo dirmi esattamente perché. Mi asciugo il sudore dalla fronte, con il cuore che all'improvviso comincia a correre. Non ho invitato al matrimonio la mia unica sorella, che è anche la mia migliore amica. Avrei voluto invitarla, ma temevo le sue obiezioni. Siamo solo io, Kevin e la gente della rivista. Sento una scarica di adrenalina e lotto contro il desiderio di scappare. Che cos'ho che non va oggi? C'è Kyla, un'amica intima. Le sue sorelle maggiori gestiscono la locanda. Ha dichiarato che sono una sorella onoraria, dato che, come dice, siamo praticamente gemelle. Entrambe biostatistiche, lavoriamo nella stessa società e siamo entrambe le più giovani della famiglia e le più intelligenti. Faccio un lento respiro profondo. Ho fatto i calcoli, il matrimonio ha senso e ho accettato che Kevin non voglia avere figli. Ho le figlie di Izzy, le mie amate nipotine. Cerco di pensare a qualcosa di bello nel non avere figli, tipo poter partire senza preavviso per Tahiti, anche se Kevin e io prendiamo solo raramente qualche giorno di ferie. Ecco, Paige mi consegna il bouquet da sposa di rose pallide e velo da sposa. È un po' brusca, perché vuole che l'articolo per leisure travel sia perfetto, oltre a essere visibilmente incinta. Fisso i fiori, cogli occhi che bruciano di lacrime. Sono sicura che la mia famiglia finirà per amare Kevin come me. È troppo orribile pensare all'alternativa. Non si piange fin dopo la cerimonia, dice severamente Paige. Non abbiamo assunto un truccatore perché tu potessi rovinare il trucco con le lacrime. Mi stringe la spalla e mi volta verso lo specchio a figura intera. Guarda questa bella sposa. Sbatto gli occhi un paio di volte, quasi non riconoscendomi. I miei capelli castano scuro, lunghi fino alle spalle. Sono acconciati in modo da ricadere in morbide onde, senza la minima traccia di crespo. Porto le lenti a contatto invece dei soliti occhiali dalla montatura nera e la mia pelle olivastra è luminosa. Il vestito? Oh, il vestito. Ha la giusta quantità di eleganza. È perfino romantico. Perfetto per una cerimonia all'aperto. L'ho ordinato online, con l'approvazione di Paige, dato che deve ben apparire nelle fotografie della rivista. Sono sicura che il fatto di finire su una rivista migliorerà i miei rapporti con la famiglia, cancellando il fatto che mi sono sposata in segreto. Almeno saremo sposati, anziché essere solo conviventi. Dovrebbe farci guadagnare dei punti. Ora vediamo di farti mettere quelle scarpe con il tacco, dice Paige. Prende le scarpe dorate con il tacco quadrato da un angolo della stanza. Mi tolgo le sneakers bianche e le infilo. Mi sono allenata a portarle, le dico. Bene, l'ultima cosa che vogliamo è una sposa che finisca a faccia a terra lungo il percorso, dice ridendo. Sorrido anche se riesco a immaginare così facilmente che succeda da non riuscire a ridere con lei. Non per dire che sono goffa, solo che a volte sono così persa nei miei pensieri che perdo la cognizione di quello che ho intorno. Entra Kyla. Oh galina, sei così bella! Esclama abbracciandomi. Kyla è la versione più dolce, più gentile di sua sorella Paige. Si assomigliano, con i capelli castani e gli occhi marrone chiaro. Ehi, attenta, le stropicci il vestito, protesta Paige. Kyla raddrizza uno strato di tulle. Scusa, mi sono persa la parte in cui divestivi, ma volevo assicurarmi che tutti i particolari fossero perfetti lì fuori. Abbiamo appena finito e il tuo sposo è arrivato. Il mio stomaco fa una piccola giravolta. Bene, dico con la voce un po' roca. Ovvio che Kevin sia qui. È stato troppo preso dal suo lavoro per farsi coinvolgere nell'organizzazione del matrimonio o per incontrare la gente di leisure travel prima del giorno fatidico, ma non poteva mancare al suo stesso matrimonio. Vado alla finestra e guardo in fondo al cortile, dove ci aspetta un arco bianco decorato con rose rosse e fronde verdi. C'è un tappeto bianco che va dalla casa fino all'arco. C'è una sola fila di sedie, per il reporter, la fotografa e le sorelle che gestiscono la locanda. Sembra piuttosto vuoto. Non che avessi particolari fantasie riguardo al giorno del mio matrimonio. Immagino di aver pensato che avrei provato qualcosa di più, che sarei stata travolta dall'occasione epocale. Invece mi sento avvilita. Il sindaco di Summerdale si avvicina all'arco in un abito blu scuro. È l'ufficiante, Levi Appleton. È giovane per essere un sindaco, a meno di 30 anni immagino. Capelli castani lunghetti e barba. Di colpo alza gli occhi, guardandomi. Sento una scossa, proprio come quando ci siamo incontrati l'ultima volta e anche la volta prima. Ha quell'effetto su di me. Non riesco a spiegarmelo. L'avevo conosciuto due mesi fa, qui alla locanda, per l'incontro con la gente della rivista e avevo avuto una strana esperienza. C'eravamo fissati negli occhi e mi era sembrato che mi avesse colpito un fulmine. Mi si era svuotata la mente. Sensazione molto insolita per me. Io penso continuamente. Poi Kayla mi aveva parlato di lui. Lo conosce bene, dato che è un suo vicino di casa ed è un buon amico di suo marito. Dice che è un'ottima persona. Eletto sindaco due volte. Anche le sue sorelle ne parlano benissimo. Immagino che la strana scossa che ho provato quando ci siamo guardati negli occhi fosse dovuta al suo naturale carisma. La mia teoria era stata che il sindaco Appleton aveva un enorme effetto con chiunque lo incontrasse la prima volta. Come conoscere una celebrità o una stella del Rocco con tutto il loro carisma. Cosa che avrebbe spiegato perché era un sindaco così popolare. Ma la strana sensazione era continuata ogni volta in cui mi imbattevo in lui in città mentre facevo commissioni. Era sempre caloroso e amichevole. Mai troppo. Decisamente non flirtava eppure, quando i nostri occhi si incontravano, sentivo una scossa, seguita da una vampata di calore. Non aveva senso. Perché avrebbe dovuto succedere dopo un primo incontro con niente più di sorrisi calorosi e amichevoli? Carisma eccezionale. Forse era l'effetto che aveva su tutte le donne, anche se era difficile da dire, perché non l'avevo visto con una donna per poter giudicare accuratamente. Distolgo lo sguardo e vedo la testa bionda di Kevin Kina come al solito sul suo telefono, accanto alla tenda bianca allestita nel cortile laterale, per il piccolo ricevimento a base di champagne e stuzzichini. Brooke si precipita nella stanza. È la sorella di mezzo tra Paige e Kaila ed è la coproprietaria della locanda. Come va? Sono tutti pronti? Qui va tutto bene, dice Paige. Brooke si avvicina a me, con gli occhi verdi preoccupati. Va tutto bene, gallina? Sembri un po' indisposta. Tutte e tre le sorelle mi fissano. Espiro bruscamente. Sono un po' nervosa per via della gente della rivesta. Concentrati sul tuo sposo, ordina Paige. È il tuo giorno speciale. Hanno promesso di essere il più discreti possibile. Annuisco, sentendo il sudore che mi scorre lungo la schiena. Sento i nervi tesi mentre mi muovo lentamente verso il letto e mi siedo. Posso restare un paio di minuti da sola? Certo, dice Paige, spingendo le sue sorelle fuori dalla stanza. Ce la farai, grida Kaila uscendo. Alzo la mano per confermarlo. Appena escono, prendo la borsa dal comodino e tolgo il telefono. Devo mandare un messaggio a mia sorella. La chiamerei, ma le mie nipoti di 4 e 6 anni le rendono difficile parlare al telefono. Però può quasi sempre mandare un veloce messaggio. Devo solo controllare, vedere se stanno tutti bene. Oh, c'è un messaggio di Kevin. Non voleva vedermi con l'abito da sposa prima del matrimonio. Per l'effetto wow, ma si è comunque preso il tempo per mandare un messaggio. Carino. Lo apro. Kevin, non ci riesco. Il matrimonio è annullato. Puoi farlo sapere al personale della locanda. Spero che questo assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti o volete darmi qualche suggerimento o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social che trovate nell'infobox. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!